Il nuovo anno scolastico che sta per iniziare segna una svolta per quanto attiene all'obbligo di vaccinazione per i piccoli studenti. In conformità con il piano varato dal Ministero della Salute, in corso d'attuazione dalle aziende sanitarie regionali, i bambini con meno di sei anni non vaccinati non saranno ammessi al nido o all'asilo. La misura riguarda anche gli istituti privati, quindi impossibile aggirare la norma semplicemente evitando le scuole pubbliche. Per i bambini da sei anni in su scatta la scuola dell'obbligo. In quel caso i bambini non vaccinati saranno comunque iscritti, a carico dei genitori previste sanzioni fino ad un ammontare di 500 euro. I dirigenti scolastici che abbiamo contattato sulla questione al momento preferiscono non rilasciare dichiarazioni. In questa fase stanno vagliando la circolare ministeriale allo scopo di districarsi al meglio nell'attuazione di quanto promana dal decreto vaccini. Nei prossimi giorni ne sapremo di più. Intanto, per quanto attiene al Molise, l'ASNEM preannuncia una campagna di sensibilizzazione sulla questione. La strategia, quella di fornire ai genitori informazioni il più possibile esaustive sui vaccini. Spesso è proprio la carenza di sufficienti informazioni e di interlocuzioni con personale medico specializzato ad ingenerare i dubbi dei genitori, allo scopo di superare questa criticità dunque previsti incontri nelle classi con esperti e medici del Dipartimento di Prevenzione.